...che viene a arbitrare queste partite di fronte a due squadre di grandissima tradizione, grandissima storia e non hai la sensibilità che deve albergare in un essere umano per capire che un episodio, proprio per farla grande dire dubbio, ma proprio per spezzargli una lancia a favore, tu riesci a dar rigore al 93esimo, più espulsione vuol dire che al posto del cuore hai la pattumiera, perché se no un essere umano non può mai prendere due decisioni così avventate, dopo che ha visto... ...